I pneumatici sono realizzati per resistere a condizioni impegnative, ma non sono indistruttibili. Vi sono numerosi fattori che possono causare danni o un'usura prematura dei pneumatici, compromettendone così la durata, le prestazioni e, in definitiva, la vostra sicurezza. Un errato allineamento delle ruote, ad esempio, può causare un'usura irregolare tra la spalla interna e la spalla esterna del pneumatico. Se notate qualcosa di insolito sui vostri pneumatici, non aspettate che sia troppo tardi. Rivolgetevi a uno specialista di pneumatici per una consulenza qualificata e, nella maggior parte dei casi, gratuita. Anche i pneumatici eccessivamente gonfi o sgonfi causeranno danni nel tempo, come nel caso di questo pneumatico usurato al centro. È importante controllare regolarmente la pressione dei pneumatici e mantenerli correttamente gonfi. Le condizioni di guida ostili, tuttavia, sono la causa più frequente di usura o danni prematuri dei pneumatici. La presenza di buche o cordoli può causare la comparsa di lacerazioni e rigonfiamenti sulla parete laterale dei pneumatici, mentre oggetti estranei conficcati nel battistrada, quali chiodi, sassi o viti, possono ridurne significativamente le prestazioni. Ecco perché Bridgestone vi raccomanda di controllare regolarmente l'eventuale presenza di danni o usura irregolare sui pneumatici e di sostituire, in ogni caso, i pneumatici in servizio da oltre 10 anni. Non dimenticate di controllare l'intera superficie del battistrada, nonché la parete laterale interna e esterna di ogni pneumatico. E sì, potreste dovervi mettere a carponi. Se avete dubbi, non esitate a chiedere consigli al vostro specialista di pneumatici di zona. E ricordate, prendetevi cura dei vostri pneumatici e loro si prenderanno cura di voi. Sono Tony Giardin e questo è un altro consiglio per la sicurezza dei pneumatici offerto da Bridgestone Pneumatici. Grazie a tutti.